Speaker, ciao a tutti! Se vuoi conoscere una persona e non sai come fare, utilizza questi argomenti. Sono qui per te, pronti per un tuffo nel passato. Chi non ama ripercorrere i bei tempi andati? Ricordi il tuo primo migliore amico, i giochi a cui giocavate o gli eroi che ammiravate. Queste storie non sono solo divertenti da condividere, ci connettono a un livello più profondo. E che dire dei racconti di viaggio? Ogni viaggio è un'avventura piena di sorprese e scoperte. Condividere questi aneddoti può far nascere conversazioni e ispirare futuri viaggi. Scene 3. Film. Oh, tutti abbiamo quel film che ci ha fatto ridere, piangere o riflettere. E la musica, un linguaggio universale che ci unisce, a prescindere dalle nostre origini. Conversazioni sul cibo? Certo che sì. Che tu stia deliziandoti per i funghi trifolati o disprezzando gli spinaci, le storie sul cibo ci toccano da vicino. Anche lo sport e gli hobby. Ognuno ha una passione, no? Condividere questi interessi può trasformare gli estranei in amici. Allora, qual è la tua storia? Condividila nei commenti qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale per altre chiacchiere sincere come questa. A presto!